Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente con Banz che ci porta la sua deck profile di Despia con Manuel Lubellon. La povertà ogni tanto ci colpisce forte. No, devono arrivare, mi devono arrivare. Però vabbè, oggi ce l'ho, domani può essere muore, quindi... Speramo. Non si sa mai, così saltiamo l'OTS Championship e possiamo dire non averlo vinto perché non c'eravamo. Non si sa mai. Detto questo, ragazzi, vi ricordo come sempre che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati a Magic Corner. Trovate il loro store qua sotto in descrizione e c'è pure il codice sconto. Inoltre, trovate sempre qua sotto Twitch se volete seguirmi. In più, se volete vendere carte di Yugi, Magic e Pokémon, ritiro praticamente di tutto. Vi basta contattarmi e mandarmi le foto e probabilmente un accordo si trova perché sono utopatico. Detto questo, è il tuo momento. Non ti dilungare troppo e sai che c'hai l'autobus che parte. Allora, Despia. Questa era la lista che ho portato all'ultimo regionale. Ovviamente non andavo benissimo, però Alas, tocca. 4-2-1. C'avevi un'ottima modellazione. Vabbè, non c'avevo ore di sonno dietro, ma non è questo il punto. 4-2-1, poi il matchup contro Tieri Sciso l'ho provato relativamente poco. 4-2 non è terribile, però potrebbe andare meglio. Allora, la lista, ora la vediamo, non è troppo diversa da quelle che si giocava prima. Anche se penso che molte delle liste recenti giochino troppi brick, quindi ramo tagliate il più possibile. 3-Aluber. Vabbè, non c'è da spiegare. 3-Tragedia e un Alibitum. 3-Tragedia 3 perché ci sono le Allure. 3-Red di Main. Perché l'obiettivo della lista è una lista generalmente forte, anche con in Second, cosa che molte liste di Despia soffrono. E avere 3 Albion, poi vedremo, anzi, già che ci siamo, 3 caduti, 3 Albion. E 3 Allure permette spesso di fare Red per doggiare Imperma, Veiler e simili. È forte, non rende mai tragedia una carta morta in mano. Ovviamente il terzo caduto rispetto alle liste standard perché giocando l'Albion, 1 lo mandate di fusione e non sempre lo rimischiate con le line con i Movilubelion. 1 lo mandate di Albion e il terzo nel mazzo serve sempre perché non so mai che aveva parte dei Tieri Sciso. Ve ne partono due e siete messi malissimo. Poi, sempre per il comparto Branded Despia classico, 3 fusioni, 3 opening queste non sono discutibili, 3 Red. Come dicevo, l'obiettivo è essere decente andaprimi, nonostante le Red soffrono tanti Bystad, che è vero. Una massa critica di Red e poi Monobando. Spesso permette comunque di risolvere almeno una delle due durante il tour dell'avversario. Poi la combo con Lubellion o Saronir comunque finisce con Beast, finisce con Mirroged o Stapele accesi. Cosa che magari spesso nelle combo vecchie Mirroged finiva con l'effetto già usato e magari non poteva usare. E il Bystad vi poteva uccidere. Se è con Monobaystad invece così, bene o male è riuscito a sopravvivere. Poi questi che ne mancano due ma tocca che arrivano prima o poi. Non penso sia molto a discutere. Supporto migliore che ha preso recentemente. E qui forse la parte un po' meno convenzionale. I tre Saronir, molta gente gioca o 3-1-1 o addirittura con 3 Druidorm, ho visto. Ma è il Saronir stranamente fortissimo. Sia perché spesso è il search di Lubellion, sono stati primi, confusione. Perché la line forte vi permette di... Cioè necessita di scartare Saronir. Magari quella è l'unica faccia di vedere che è un po' particolare. Per il resto comunque tanti Bystad nel meta di tier sciso sono sempre forti. Poi Beast che è veramente incredibile. Nei matchup control gira il matchup da sola. Rimuove uno tutti i turni, ci sono matchup che veramente vi salva da sola. Monocoled, Araldino spacca veramente tanto. Fortissimo, quindi questa è forte. Becca i tier i shizu. Hitta decente anche contro altri mazzi come qualche volta di Link. Non è terribile. Non è terribile contro la Toad se ve l'hanno usata prima di pornare la di Elfo. Tra la Lur perché l'obiettivo è avere le più carte possibili. E non solo, con interazione con tragedia è fortissima, quindi 3 forti. E poi queste. Warbreaker diciamo classici. Droplet forse è uno dei migliori possibili in questo mazzo. Veramente tutte le cose che senda tutte forti. Vi aiuta quasi sempre. Permette di doggiare in perma, veler, doggiare target in gremuva, doggiare un sacco di cose. E far partire sia Albion di extra che Lubelion di extra. Magari sotto tante roba che vi fa paura. Addirittura anche skill drain. E queste stanno veramente cadendo in favore nel meta. Perché spesso le board di tier non hanno i target per la spoli da sola. Ma la cosa forte in questo mazzo è che molto spesso potete fondere con il vostro stesso mostro. Sembra una cosa stupida una tante volte. Contro magari Rutkalos settare che ha dovuto fare spoli funziona. Un po' come si fa con Alba Lenatus. Poi con tanti mazzi più rogo comunque anche non ti è risciso e forte. E durante il vostro turno 1 o turno 0. Se fate combo anche questa un po' come Red vi permette di doggiare effetti. L'extra. Questo è lo standard più monocopia extra. Potrebbe essere Brigrand ma non giocando di Mercurier è più forte Titaniclad. Adda caduto che è forte. E in più non solo diventa grande per autare le torri medie diciamo. Perché mi sembra che il massimo che arriva è 4 e 9 forse 5. No 4 e 9 sì. Quindi non potrebbe autare una Dignister da 5 ma comunque autare le torri medie. Tipo una Dignister da 4. Doja va sopra i Marinses molto spesso se state attenti. E in più siccome ha un effetto del turno in cui entra. Magari vi permette di andare sopra qualche cosa di forte. Sotto il board prende negate. Due Masquerade. Fortissimi. Ci sono delle combo in cui stiamo finita con due di questi. Contro Runic. Addirittura contro Tiar. Contro Sprite. Due di questi più Stapelia. Con un Red ovviamente. Sono forti. Contro Flander sono devastanti. Ogni tanto se penso di alzare il terzo. Poi ovviamente nemmeno di Stapelia. La seconda Stapelia potrebbe essere un po' tutto. O un terzo Masquerade. Che è totalmente Nistazze e Patchwork. Difficile sono da fare. Però quando entra vince il game. O la seconda Stapelia che è forte. Però la seconda Chimera. Le due Chimera. Una entra di Red. Una è Recovery spesso. Nei matchup Control è devastante. Veramente. Sono mazzo contro i Control. Infightabile. Ragazzi ve lo dico che confermo io eh. Era utabile. Chimera forte. Poi anche in Targetabile. Anche se adesso è la lista nuova. Non giocando le Poli. Più difficile. Però anche solo un 3-3. Che entra. Spacca due Pesca. In un matchup Control. Tipo intanto so gira Labyrinth. Da quando è uscito la Lady nuova. Tutti questi mazzi così un po' più fringio. E devastante. Monostapelia. Necessaria. Obbligatoria. La combo. Non dico più forte del mazzo. Ma quella che forse giocava mai su T-Bisted. C'è passa. Quindi forte. E Target is Poli. Ma Dragon non è obbligatorio. Non c'è sempre il modo di farlo. C'è non contro tutti i mazzi forti. Però contro i Rogged è fortissimo. E spesso avercelo anche soltanto per fondere i tuoi pezzi. E dei casi particolari. E' forte. E poi la side. Banshee due Zombie Ward. Fortissimi contro Flander. E Flander è un matchup che soffrite. Se sono 30 secondi. Veramente. Veramente tanto. Questi aiutano. Poi Tre Bell. Tolgono i Bystead. Spengono T-Rishizu in parte. Che è forte. Altri due Druidurn. Perché è sempre il matchup in cui sono decenti. Tre cicloni. Matchup Control. Runic. Le mine. Sempre decenti. E poi la Tec per il regio. Questi. Un po' particolari. Hanno due usi. Uno diciamo il motivo per cui sono messi inside. Uno di più. Un di più. Il primo è contro Flander. Avete un sacco di spazi da togliere. Perché i Bystead non fanno niente. E anche le Spoli. Quindi questi entrano quasi gratuitamente. E comunque se entra in un suo pezzo fanno veramente male. Su Robina non cerca Statua. Iglenn non cerca Emp. E non cerca poi in base a questo se ne siete. Quindi forti. In più. Che può capitare. Non raramente. Matchup in cui i Bystead sono morti. E dovete andare primi. Nella side roba da sedare per andare primi. Che non siano i Bystead. Ci sono soltanto le Bell. Decenti. Sicuramente. Se non potete giocare i Bystead. Però in più. Potete mettere direttamente questi. E vi permetto di andare sopra Ash su Fusione. O la Droll. Magari all'Uro simili. Che sembra una cosa stupide. Ma capita davvero spesso. Ora non mi dilungo sulle combo. Ma l'unica line importante. Da tirar fuori. L'unica combo da far vedere è questa. Ah l'Uber può essere Fusione. Può essere un po' tutto qui. Perché spesso vi trovate che il Lubelion in mano è un po' un Brick. Perché si si scarta. Prende un Byst. Verissimo. Però poi farla entrare è difficile. Perché Fusione senda il Target Light. Quindi il secondo Lubelion. Non prendete una data di tragedia. Mentre qui senda tragedia. Se vi togliete la tragedia con il Bystead. Per far entrare Lubelion. Poi non avete il target di Red. Quindi sta combo è forte. Ve la faccio vedere. Non mi ordine. Lubelion. Prende Saru. Normal. Fusione. E qui sendate. Caduto è tragedia. Ora. Qui entra. Il Lubelion. Che fa? Questo è qui. C'è il Link 1. Lubelion. C'è lì 2 tragedia. Scalate Saru. Nel per costo. Risolvete tragedia. Aggiungete Libitum. Se avete fatto la combo così. Se siete partiti con Fusione anziché Alubair. E non avete un mosto d'Archimane in più. Aggiungete un altro pezzo. Aggiungete un altro Alubair da bandire. Adesso risolve l'effetto di Lubelion. Che rimischia. L'altro Lubelion. Che confusione. E il Caduto. Per un Albion. Quindi. Questi sono rimischiati. Su nuova catena. Parte Albion 1. E Saronir 2. Di fare foolish. Saronir. Rimanda lo stesso Lubelion. Che avete mandato. Mentre. Albion. Fonde. Uno. E di solito. Qua il Saronir. Questi due. Per fare. Sta pelia. Ora. Lubelion. Entra. Portando via Alubair. Cial. E ci avete tutto. Perché. Fate effetto Lubelion. Per portare Beast. E in End. Settate. Qui potete scegliere. In base a cos'è. Contro Tier. Portate Bando. Contro tutto il resto. Portate Red. E in più avete questo. Che riprende la sta pelia. Per farla due volte. Se avete aperto. Con Albion. Un caduto. Sta sta pelia. Potrebbe essere Mirror Jade. Che è la stessa cosa. Veramente indifferente. Però. L'idea è che questa line qua. Gioca meglio. Sotto. Intanto. È la line più forte. Che c'è forse. Confusione. Più Lubelion. E poi non soffre così tanto. I Bystead. Cosa che c'è. Una paura incredibile. Perché veramente. Vi spengono tantissimo. Bando Red. È vero che una delle due. Magari soffre Bystead. Provate comunque. Una Beast. Più una sta pelia. Più tutto il resto della mano. Sono due carte. Senza discardo. C'è il discardo integrato. Nella combo. Il tour dopo. Avete recovery. Contra Jedi. Che resetta fusione. Sembra cosa stupida. Ma il fatto che Albion. È stato evocato correttamente. Vuol dire che. Spesso. È successo tante volte. Vi fate. Contro tier. Magari potete portare via due tier. Fate effetto bando. Riportate Albion. Riportate via due pezzi. Poi questo Albion. Lo potete ributare di Beast. Perché finché contrate un Bystead. Può essere un drago qualsiasi. In end. Cercate nuovamente. Anche se avete fatto Mirrojade. E niente. Questa è la combo. Che mi sentite far vedere. Perché online gira poco. Ed è veramente. Tanto tanto più forte. Di vedere. Un lubello animale. Non sapere cosa farci. E abriccare. E va bene ragazzi. Il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. Perché. Buzz adesso ci porta. Fluffa. La prossima volta. Porteremo Fluffa. Qual è il problema? O vuole rimanere a cena. E registrarlo adesso. No no. Adesso con calma. La prossima volta ragazzi. C'è un limite a tutto. Detto questo ragazzi. Mi piace. È d'obbligo. Mi sembra. Speriamo. Sì. Dai dai. E se no. Quale cosa ci sarebbe meritato. Questa decklist. Qua ci diamo pure all'Ippica. Favamo prima. O a Magic. Bello. Medico. Di chi stai a parlare. Bello un bel po'. Vabbè ragazzi. Fa madro quanto vuoi fare. Estate e mesi. E noi ci rivediamo. Domani. Forse. O settimana prossima. In settimana. Sempre qua. Con un nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.